Il commissariato di vittoria della Polizia di Stato ha proceduto a rintracciare il 27enne rumeno Manoli Viorel Costantin e a procedere al suo arresto ai sensi della legge 69-2005 su richiesta della direzione centrale della Polizia Criminale. L'uomo, in quanto destinatario di mandato d'arresto europeo richiesto da parte dell'autorità giudiziaria rumene, dovendo espiare la pena di quasi due anni, poiché condannato per i reati di percosse e lesioni personali volontarie previste e puniti dall'articolo 193 del Codice Penale della Romania, fatti commessi appunto nel suo paese nel dicembre del 2014. L'arrestato, dopo gli adempimenti di legge, è stato condotto presso il carcere di Ragusa a disposizione della Presidente della Corte di Appello di Catania. Grazie a tutti.